Veneto scorso, al Teatro Sorvetto di Resignano si è tenuta l'Assemblea per il Fondo Integrativo Pensionistico dei Chimici Fonchim. L'Assemblea è stata tenuta da Roberto Aioi, Presidente dei Sindaci del Fondo Fonchim. Sì, è un'iniziativa che abbiamo costruito con i sindacati locali per parlare del Fondo di Pensionistica Integrativa del nostro settore, che è un fondo nato nel 1998 e che è un con un maggior successo nel mondo della previdenza pubblicare. Abbiamo tassi di adesione molto elevati, intorno al 80%, e soprattutto abbiamo avvenuto nel corso di questi anni, nonostante le varie tesi finanziarie, dei buoni risultati economici e carini. Anche alla luce della nuova riforma, perché si lezia un fondo di Pensionistica Integrativa? No, innanzitutto perché è necessario, dopo le riforme della previdenza pubblica fatte in questi ultimi 15 anni, è necessario costruire un'integrazione previdenziale per potersi assicurare un futuro in età post-lavorativa limitoso. Il fondo di categoria è lo strumento essenziale per poter costruire questa integrazione previdenziale, stimata intorno al 20-25% dopo circa 30-35 anni di esegue. Grazie.